La visita ai cimiteri è come un pellegrinaggio e ogni anno, il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, in tanti compiono questo pellegrinaggio verso il Campo Santo, dove riposano coloro che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. I cari, che spesso vengono dimenticati perché siamo presi dai nostri impegni quotidiani, oggi la Chiesa ci permette di ricordarli. Così ha esordito Monsignor Raffaele Calabro, Vescovo di Andria, che come da tradizione ha ufficiato una santa messa all'interno del cimitero cittadino. Carissimi, siamo venuti in questo cimitero per ricordare i nostri cari e per pregare per essi. È un'occasione molto indicata per ricordare i nostri cari, che subito dal loro morte hanno lasciato un'impronta molto profonda nel nostro cuore. Ma poi pian piano li abbiamo dimenticati, non per colpa nostra, ma perché abbiamo seguito tanti nostri pensieri, abbiamo tanto lavoro da fare. Ecco, oggi la Chiesa ci offre l'opportunità di ricordarli. Visitiamo i loro sepolcri. Una poetessa all'inizio del Novecento, Margherita Guidacci, ha scritto molto bene che i nomi dei nostri cari sono scritti su una casa sigillata, intendeva dire il sepolcro. Dentro in realtà c'è solo marciume, c'è solo corruzione, però quel nome iscritto sulla tomba ci indica di guardare altrove, dove sono i nostri depunti e sono depunti che vivono ancora, vivono in Cristo. È necessario vedere oltre la morte e non rimanere prigionieri nella stanza del tempo. Con questa luce tra le mani, accolta e condivisa umilmente già sulla soglia della vita, attraverso il portale dei Santi, entriamo nel mese di novembre e meditando cristianamente sulla morte impariamo ad apprezzare la vita, dono stupendo e sempre inedito. Monsignor Calabro ha invitato i presenti a fermarsi vicino alle tombe dei cari difunti, rileggendo la loro vita, ripensando ai loro insegnamenti e ha rivolto un invito soprattutto ai giovani, quello di mantenere viva la tradizione e con essa il legame con la famiglia, con chi non c'è più e con chi è vicino. Chi crede non vede dei morti, ma vede dei vivi, ha concluso Monsignor Raffaele Calabro e oggi, oltre a ricordare i difunti lasciando dei fiori sulla loro tomba, è importante pregare per un eterno riposo. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Andrea Nicola Giorgino e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale.